Come tutto in Italia, anche il PNRR, stretto fra sogni e realtà, sarà ricordato per le polemiche che avranno caratterizzato il suo percorso dal concepimento all'attuazione. Intanto, giovedì, la Camera ha approvato definitivamente il decreto che ne favorisce riorganizzazione delle strutture, modalità di programmazione e che Punctum Dolens interviene con una prospettiva di modifica dello stesso. Le polemiche sull'opportunità di questi interventi di adeguamento fanno parte di un'abitudine italiana, spesso anche meridionale, del Presidente della Regione o del Professore Universitario di Turno, che lancia l'allarme sui fondi che si possono perdere, ha commentato l'Onorevole di Forza Italia Mauro Dattis. Questi fondi non saranno persi, c'è da dire che però un piano come il PNRR attuale, che è riferito a dati del 2019, deve tenere conto di quello che è successo tra il 2019 e il 2023. E' successo di tutto, pandemia, ed è successo anche che siamo ancora in un conflitto bellico Russia-Ucraina e quindi chi dice che è immodificabile un piano vuol dire che non sa neanche di che cosa stiamo parlando. Bene ha fatto il Governo a venire in aula con queste tesi, Camera e Senato hanno approvato il decreto, adesso bisogna lavorare, ha concluso Dattis, per arrivare ad eliminare i progetti non realizzabili entro il 2026 e integrarli con progetti che possano creare spesa entro quella data e che siano di qualità e adatti alle esigenze del Paese.